Buongiorno amici, questo è il resto del Carlino Tg del 10 dicembre. Cominciamo parlando di carne alla diossina, sono le carni bovine e suine importate dall'Irlanda. Come sapete sono in atto una serie di controlli su tutto il territorio nazionale e anche in Emilia Romagna in particolare. Nonostante la percentuale delle carni importate dall'Irlanda sia pari soltanto allo 0,3%, cerchiamo di capire quale rischio diossina ci sia davvero in questi alimenti. Ascoltiamo il servizio di Egidio Bandini. Si pronuncerà domani l'Autority Europea per la Sicurezza Alimentare di Parma sull'eventuale rischio per la salute dei consumatori derivante dalle carni suine inquinate da diossina e provenienti dall'Irlanda, anche se già da ora gli esperti affermano che la possibilità di danni alla salute praticamente nulla. Intanto sul fronte del Parlamento italiano arriva la dichiarazione del segretario alla Commissione Agricoltura, Fabio Rainieri. L'Italia importa dall'Irlanda solo lo 0,3% delle carni, dice Rainieri, quindi nessun allarmismo, poiché siamo assolutamente lontani da fenomeni come la mucca pazza o l'influenza aviaria. Comunque è importante che i consumatori si rivolgano a carni italiane assolutamente sicure e certificate. Infine Rainieri sostiene la proposta del Ministro Luca Zaia, l'etichettatura e l'assoluta tracciabilità delle carni, soprattutto se provenienti dall'estero. Parliamo adesso delle primarie per l'elezione del Sindaco di Bologna. Come sapete le elezioni si terranno il 7 giugno prossimo se la data verrà confermata in un election day che contemplerà anche le elezioni europee. Per quanto riguarda il PD invece la data prevista delle primarie per il 13 e 14 dicembre. Circono già molti sondaggi, uno molto interessante è stato curato da 7 gold nei giorni scorsi e ha dato Del Bono in testa con il 59,62% delle preferenze. Ma vediamo i dettagli nel servizio di Alberto Maio. Flavio Del Bono in testa, le preferenze degli elettori bolognesi per le primarie con il 59,62% dei voti, seguito da Maurizio Cevenini, Virginio Merole e Andrea Forlani, è il risultato di un sondaggio commissionato dalla nostra emittente sulle intenzioni di voto di coloro che parteciperanno alle primarie del PD per il Sindaco di Bologna in programma il 13 e il 14 dicembre. Lo studio è stato realizzato dalla DMT Telemarketing tra il 1 e l'8 dicembre 2008 su un campione casuale di 1.055 bolognesi dai 16 anni in su. Ne emerge che il 24,83% degli intervistati, praticamente uno su quattro, manifesta l'intenzione di recarsi ai seggi per scegliere il futuro candidato del PD alla carica di Sindaco di Bologna. Un altro 8,34% non sa ancora se ci andrà, il 22,84% non è interessato a partecipare, mentre il 43,98% non vuole rispondere. Se il dato si dovesse rivelare corretto sarebbe superato anche il dato dell'affluenza per elezione del segretario del PD nel 2006. Partita ancora aperta comunque, visto il 62% di elettori che dice di non avere le idee del tutto chiare, ma di coloro che si dicono certamente intenzionati ad andare a votare il 59,62% sceglie Flavio Del Bono, il 19,23% Maurizio Cevenini, il 13,46% Virginio Merola, il 7,69% Andrea Forlani. Ancora primarie perché uno dei candidati alle primarie del PD denuncia delle irregolarità. Si tratta di Andrea Forlani, presidente del quartiere Santo Stefano, dice che nelle primarie e nel corso di questa preparazione alle primarie ci sono state diverse irregolarità. La denuncia è raccorta in questo servizio di Alessio Bertini. Un'ombra che potrebbe avere conseguenti impreviste e delle quali nessuno per ora vuole parlare. Non il Comitato per le primarie a Bologna che in una lettera ha manifestato proprio disappunto né tantomeno Andrea Forlani che ha sollevato la questione. Il caso è stato aperto proprio dal presidente del quartiere Santo Stefano e candidato alle primarie del PD e riguarda lettere inviate ai cittadini da parte del comitato che sostiene Flavio Del Bono. Le emissive avevano come oggetto l'incontro avvenuto il primo dicembre tra il vicepresidente della regione, Romano Prodi. Secondo Forlani, nomi e indirizzi sarebbero stati pescati all'interno degli elenchi dei votanti alle primarie del 14 ottobre 2007. Inoltre, sarebbe stato sforato il tetto dei 15.000 euro come spesa massima per la campagna di ciascun candidato e entrambi i casi sono vietati dallo statuto delle primarie. Quella che poteva essere una svista, un errore di valutazione, così la pensano sia il Comitato per le primarie sia Forlani, è diventato però un caso. Il Comitato di Garanzia Bolognese non ha infatti indagato e Del Bono si è limitato a dire che è tutto nella norma. Forlani vuole però vederci chiaro, parla di violazioni e ha chiesto l'intervento degli organi regionali del partito. Passiamo adesso alla cronaca nera e parliamo di infortuni sul lavoro, un tema purtroppo sempre presente nelle cronache. Questo in particolare riguarda un infortunio subito da un operaio a Bellaria, Igea Marina, che è finito dentro una betoniera e ha rischiato di finire stritolato. Ascoltiamo il servizio di Gianluigi Lucarelli. Forse è scivolato ed è andato a finire con le gambe dentro alle lame di un bobcat escavatrice. Le grida hanno poi richiamato altri operai che sono accorsi immediatamente per spegnere il motore ed evitare così che la situazione si trasformasse nell'ennesima tragedia sul lavoro. L'incidente si è verificato verso le 10 di mattina in via Gagliani, nella zona artigianale di Bellaria e Giamarina. Una scena raccapricciante quella che si è presentata agli occhi dei soccorritori. Vigile del fuoco, 118 carabinieri che sono intervenuti sul posto. La macchina impastatrice del cemento ha provocato gravi ferite alle gambe dell'operaio che è rimasto incastrato negli ingranaggi. Per liberarlo i vigili del fuoco hanno dovuto smontare con attenzione un pezzo della ruspa e trasportare con essa anche il corpo dell'operaio all'ospedale, dove resta ricoverato in prognosi riservata. Ancora da Rimini per la vicenda di una bimba cinese di 5 anni che è stata rinchiusa e picchiata dai genitori. Almeno questo secondo l'accusa. Se ne è accorto un elettricista che era andato a fare lavori presso quella famiglia. Ascoltiamo tutti i particolari nel servizio di Natasha Lorusso. La comunità cinese non è facile comunque da penetrare né per il loro modo di vivere né per il loro modo di comportarsi. Parliamo anche di una bambina di 5 anni che abbiamo constatato che non è sicuramente la migliore delle educazioni a cui era sottoposta. Ma penso anche che c'era poco da raccogliere. Parlano i fatti. Fatti che hanno portato direttamente in carcere il padre con l'accusa di maltrattamenti su minori e sequestro di persona. Mentre la mamma, in attesa del terzo figlio, è agli arresti domiciliari. Nuovi particolari sulla vicenda che ha visto protagonista una bimba cinese di 5 anni uscita dall'incubo in cui si trovava grazie ad un elettricista che giovedì pomeriggio impegnato in lavori nel condominio di Rimini dove vive la famiglia ha sentito dei lamenti. Gli aprendo la porta di uno scantinato ha trovato la piccola in lacrime. L'uomo ha consegnato la bimba ad una condomina che nel lavarla ha notato sul corpicino ecchimosi, bruciature e segni di percosse. La bimba era talmente terrorizzata che fuggita in strada per poi essere fermata. Intervenuta la squadra mobile ha preso in consegna lei e la sorollina di 18 mesi che sembra non abbia subito alcun maltrattamento. La piccola vittima, quando è stata ascoltata dagli inquirenti, aveva talmente tanti lividi e bruciature sui glutei e le gambe che non riusciva a sedersi, rimanendo rigida in piedi, come sull'attenti, rispondendo con difficoltà alle domande. Il padre commerciante che aveva un negozio a Rimini nega le violenze. La madre invece ha detto che la piccola aveva comportamenti inadeguati e doveva essere punita. Entrambi i genitori sono regolarmente sul territorio e le due bambine sono nate in Italia. Dai sanitari per ora non sono arrivate né smentite né conferme sull'ipotesi che la piccola sia stata sottoposta anche a molestie sessuali. Bene, grazie amici. Finisce qui l'arresto del Carlino Tg del 10 dicembre. Arrivederci a domani.